Salve a tutti ragazzi e ragazze, questo è un video che volevo fare per spiegare la situazione sul fatto che non porto i prodotti che escono su Disney Plus, io ce l'ho Disney Plus, il problema è che dove sono io fa schifo la connessione, ovvero io vivo in montagna vicino l'Etna, quindi ho Linkam, che non è neanche colpa di Linkam, è la zona che fa schifo e quindi è molto altalenante la connessione, se vi ricordate c'è stato quei tre giorni che sono sparito colpa della connessione, quindi durante la giornata mi va a 2 MB, io dove vivevo prima andavo a 200, rendetevi conto il mio dramma emotivo come mi sono trovato qua io, e ancora ora, dopo un anno, mi ho ancora stato di merda. Solo di notte mi riesce ad andare a 10 MB, mi va a 10 MB ma di notte non posso alzare il volume, perché qua in muri non ci sta il muro che mi separa, che non è proprio doppio, quindi si sente ogni cosa. Dice, beh, Ivan, usa le cuffie. Mi rompo un po' i coglioni, ora che poi c'è caldo, che si muore, c'è una sauna, io non c'ho neanche il condizionatore, c'è un cazzo di ventilatore, che ora sto tenendo spegno e sto sudando come non so che. Quindi dovete avere un po' di pazienza. Poi Angelo Ignazio Alagna, poverino, che me l'ha chiesto un sacco di volte, ovvero Fresh, anche altra gente me l'ha chiesto, mi dovete perdonare. Lo solito dice, Ivan, ma si può trovare in altri modi, si può scaricare? No, io non ci riesco. Per me è come rubare, dopo che ho il servizio Disney Plus, anche queste cose io non le faccio e non le farò mai, anzi io invito sempre gli altri da non piratare, assoluto. Fatevi solo Amazon che sta a 4 euro e non romperi i coglioni. Ma di piratare io non mi va e mi fa troppo schifo farlo. Quindi spero che in questi giorni riesco un po' con la connessione, vediamo un po', mi ci metto un modo o nell'altro a cercare di vederlo. Quindi perdonatemi se non vi porto certi contenuti di Disney Plus, che sicuramente saranno usciti altri film horror, non so un cazzo. Detto questo, ci vediamo alla prossima.